buongiorno buona domenica a tutti dal centro di Mofalcone tranquillo mi sono fatto molto in mano sia chiaro amici miei vi auguro una buona giornata buona domenica saluto a tutti speriamo bene che ho sentito un messaggio del Brasile a Paranacqua ci sta un incendio molto vasto speriamo bene forza spero che la mia amica carissima Sandra che vada tutto bene a lei e la sua famiglia speriamo bene e che dire altro forza e coraggio saluto i carissimi amici Tiziana Ivana Graziana nonna Anto gli Antonelli a Paranacqua di Parigi per l'Italia saluto tutti e mi raccomando iscriviti franco tutto su youtube e che dire oggi oggi è anche una giornata grigia ha piuuto stanotte mi sa un pochino che ho messo bagnato per terra ringrazio ancora John per quella cosa che ha fatto la mia professoressa Marina e tutti voi vi voglio bene saluto tutti i cantanti e cantori cantrici di opera o san soprano tenore eccetera eccetera vi voglio bene iscrivetevi franco su youtube e che dire altro buona domenica vi voglio bene siete sempre nel mio coraggio ciao a tutti a tutte e grazie collega del cappello di Tupar un abbraccio e buona domenica ancora iscrivetevi franco tutto su youtube ciao